Buongiorno a tutti da Earthmeasured. Voglio parlarvi oggi di un argomento nuovo. Ci siamo soffermati negli ultimi video a parlare della matematica che ho intenzione di utilizzare nel descrivere la Terra piatta. È stata una breve sezione. Dopo una sezione introduttiva in cui abbiamo portato le prove del fatto che la Terra non è un globo mai piatta, voglio introdurre una nuova sezione. Questa sezione è ancora una sezione introduttiva, non andiamo ancora a descrivere la Terra, ma poniamo le basi per poterlo fare. Voglio parlarvi dell'Etere. Chi si avvicina alla Terra piatta deve per forza arrivare a confrontarsi con il concetto di Etere. E quando dico Etere non parlo della sostanza chimica, parlo invece del mezzo attraverso il quale si muove la luce. La scienza odierna ci dice che non esiste l'Etere, che la luce si muove nel vuoto. Questo deriva dal fatto che Michelson e Morley, di cui già abbiamo parlato, quando avevano fatto il loro esperimento, avevano trovato che non esiste alcun vento di Etere che soffia sulla Terra e quindi la possibilità che avevano erano due. Una era quella di dire la Terra è ferma, ovviamente non hanno neanche pensato di poter fare una tale affermazione. L'altra possibilità era che l'Etere non esistesse e che quindi non ci fosse la possibilità di misurare da un punto di vista ottico, di andare a valutare da un punto di vista ottico la rotazione terrestre. E questa è stata per esempio un'affermazione di Einstein e gli disse che otticamente non è possibile andare a fare una valutazione della rotazione della Terra. Egli affermò anche che l'Etere non esiste, tranne poi essere obbligato qualche anno dopo a reintrodurlo come concetto di spazio-tempo. Egli cioè si era trovato mal partito con alcuni concetti di tipo gravitazionale, dovette reintrodurre l'Etere, sapeva però che il rischio era quello di dover poi arrivare ad affermare che la Terra è ferma, perché questo non succedesse e gli lo chiamò in modo diverso, chiamandolo spazio-tempo e affermando che non è possibile introdurre l'idea di un Etere particellare, formato cioè da particelle chiamate Eteroni. Noi però abbiamo dimostrato che la Terra non è un globo, che la Terra è piatta, che la Terra è ferma. Pensate per esempio all'effetto Coriolis che dimostra senza ombra di dubbio che la Terra è ferma. Questo porta a concludere il fatto che le conclusioni di Michelson, Morley e Einstein fossero errate, cioè si deve introdurre nella fisica odierna, accettando che la Terra è piatta, si deve introdurre l'idea di Etere, e di un Etere formato da particelle chiamati Eteroni. Questo ci consente di rivedere l'intera fisica legata alle radiazioni elettromagnetiche, l'intera ottica. Questo perché la luce che si muove non nel vuoto ma in un mezzo richiede un mezzo che avrà delle caratteristiche meccaniche, fisiche di elasticità e inerzia. Queste sono le due caratteristiche che vengono richieste al mezzo che va a trasportare le radiazioni elettromagnetiche, elasticità e inerzia. Questo è richiesto affinché avvengano le oscillazioni tipiche dell'onda. Pensate per esempio al sistema massa-molla, io leggo una massa ad una molla, tiro e quindi ci sarà un'oscillazione. Affinché ci sia questa oscillazione ci deve essere l'elasticità data dalla molla, l'inerzia data dalla massa. Poi naturalmente ci potrà essere ancora lo smorzatore, andando a costituire il classico sistema ingegneristico massa-molla-smorzatore che costituisce l'ammortizzatore. Però questo è ancora un altro discorso che introduce il concetto di attrito presente comunque. Anche se l'etere, dobbiamo dire, è un superfluido, un fluido estremamente fine con assenza di attrito o attrito comunque molto limitato e che consente quindi il movimento della luce su lunghissime distanze. senza perdita di energia alcuna. La luce, così come viene descritta dalla scienza odierna, ha doppia natura. Natura particellare, quindi formata da fotoni, e natura ondulatoria, cioè questi fotoni sono in realtà dei pacchetti d'onde. Questa doppia natura è decisamente ambigua e quando probabilmente l'avete studiato a scuola avete fatto fatica a capirla. Come mai ci sono queste due nature? Perché ci sono dei fenomeni ottici che sono spiegabili solo tramite la natura ondulatoria della luce e questi sono per esempio la rifrazione, la diffrazione, la riflessione, anche se la riflessione in realtà è anche un fenomeno particellare, l'interferenza. Abbiamo poi invece degli altri fenomeni che sono descrivibili, fenomeni legati alla radiazione luminosa, alla radiazione elettromagnetica che sono descrivibili mediante una descrizione particellare. Questi sono per esempio la riflessione, in parte, così affermava Newton, l'effetto Compton, quindi l'emissione di elettroni da parte di un materiale, una volta che questo venga colpito da radiazione luminosa, l'emissione di coppie elettrone-positrone. Questi fenomeni sono di tipo particellare. In realtà la natura della luce non può essere doppia e vedremo che l'etere consente di andare a dare una descrizione effettiva, unificata della radiazione elettromagnetica. Questo perché l'etere è costituito da particelle chiamate teroni, aventi una massa, aventi delle caratteristiche fisiche. Questi sono solitamente in una posizione di equilibrio, sono fermi, vengono messi in oscillazione dall'onda che passa. È un po' quello che succede quando voi andate a tirare un masso nell'acqua, sulla superficie di un lago. Cosa vedete? Vedete un'onda che si propaga sulla superficie, la singola particella di acqua, la molecola di acqua H2O, viene messa, non si propaga con l'onda, ma viene messa in oscillazione dall'onda attorno alla sua posizione di equilibrio. La stessa cosa succede con la propagazione dell'onda luminosa all'interno dell'etere. L'onda si propaga, avrà una velocità che è la velocità della luce nel vuoto se non siamo nell'aria o in qualche altro mezzo. Comunque la velocità di propagazione sarà data dal prodotto tra lunghezza d'onda e frequenza, e queste sono influenzate dal mezzo in cui si va a propagare la luce. E questa onda porterà una certa quantità di energia che sarà data dal prodotto di frequenza per costante di Planck. Costante di Planck è 6,6 per 10 o almeno 34 joule al secondo. Questo 6,6 è che vi ho detto, viene fuori, viene fuori, viene fuori. Quindi, questa onda si propaga e, propagando, si mette in oscillazione attorno alla propria posizione di equilibrio il singolo eterone. E via via i vari eteroni vengono messi in oscillazione. Se l'eterone viene messo in oscillazione con una lunghezza d'onda che sia tra i 300, 400 e i 700 nanometri, ecco che l'onda va a sollecitare i nostri occhi in modo particolare, per cui quella radiazione elettromagnetica entrerà nel campo del visibile. Però, di per sé, la radiazione elettromagnetica può avere frequenze ben diverse, lunghezze d'onda ben diverse, e la luce è dappertutto, tant'è che ci sono degli esseri, delle alghe, degli esseri unicellulari, che si sviluppano anche in assenza di luce. Perché? Perché lì c'è etere, quindi loro sono in grado di cogliere la radiazione elettromagnetica a frequenze che siano diverse da quelle del campo del visibile, che sono quelle che sollecitano i nostri occhi. A questo punto, noi dobbiamo andare a considerare, con una descrizione del genere dell'etere, i vari fenomeni che sono caratteristici delle radiazioni elettromagnetiche, quindi riflessione, rifrazione, diffrazione, interferenza, e poi l'effetto Compton, la produzione di coppie, tutti i fenomeni che riguardano quindi le particelle, la luce intesa come particelle, e quindi gli urti tra fotoni, l'urto fotone-elettrone, e così via. Questo però lo facciamo nel prossimo video, con questo video abbiamo introdotto una prima, parzialissima descrizione dell'etere, che però ci sarà sufficiente per andare a descrivere la natura della luce sulla terra piatta, perché sulla terra piatta esiste l'etere, sul globo non esiste l'etere, sul globo c'è confusione, la natura doppia della luce, incomprensibile, sulla terra piatta non c'è questa confusione, perché c'è l'etere. Spero di essere stato chiaro, dove non lo sono stato, mi potete scrivere, cercherò di essere più chiaro. Vi ringrazio per aver seguito questo video, arrivederci.